E una croce bianca, stiamo andando avanti con questa cena, oggi il tempo ci assiste, nessuno ci credeva. Come sta andando appunto questa cena grande e che cosa può uscire fuori da questa quintana, almeno secondo il preore delle loro croce bianche? Ma la serata sta andando benissimo, è tutto esaurito come al solito, una bellissima serata, una bellissima location e delle bellissime iniziative. E anzi colgo l'occasione tra l'altro anche come rappresentante dei priori di ringraziare tutto il popolo della quintana che è sempre capace di grandissime cose, anche tutti i ragazzi che si occupano dello sporzionamento, del servizio, che magari dietro le quinte risultano meno importanti e invece sono fondamentali per tutte le iniziative quintanare.